Incontri istituzionali per il sindaco di Agate, Franco Raffo, che in due distinti momenti ha incontrato dapprima il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Federico Reginato e poi il questore di Ragusa, Salvatore Larosa. Con il comandante dell'Arma, Raffo ha affrontato i problemi della sicurezza legata al territorio acatese e alla frazione rivenasca, centri, dice Raffo, che necessitano di una particolare attenzione, ottica di una maggiore presenza di forze dell'ordine, dai cittadini e sentita anche l'esigenza di un rafforzamento dell'organico della locale stazione. Il numero dei militari presenti ad Agate è infatti del tutto insufficiente anche se il maresciallo Roberto Schalpe e i suoi uomini garantiscono un ottimo lavoro di vigilanza. Il comandante Reginato ha dato pertanto assicurazione a Raffo che terrà conto di quanto discusso nel cordialissimo incontro. Nel pomeriggio il primo cittadino di Agate è poi stato ricevuto a Ragusa al questore, Salvatore Larosa, cui ha spiegato la stessa situazione ed è quindi consolidare la presenza e la collaborazione con la Polizia di Stato. Anche la questore ha assicurato la piampa a disponibilità da Raffo ed una maggiore vicinanza e attenzione per Agate.